Da martedì scorso, dopo cioè il servizio della nostra emittente, in cui si dava spazio ad un ex dipendente della Daneko impegnato all'interno della discarica di San Nicola alla guardia di Andria, è stato un susseguirsi di attività per comprendere il reale stato attuale dell'ampio sito ormai fermo da due anni e di cui si è tanto parlato nell'ultimo periodo, soprattutto per la vicenda legata all'ex cava dei fratelli Acquaviva. Ex cava che è stata al centro del sopralluogo voluto dall'assessore all'ambiente Luigi Del Giudice all'indomani di quel servizio, assieme però a tecnici ASL ed ARPA. E dalla relazione dell'ingegner Giuseppe Gravina, direttore del Dipartimento dell'ARPA Puglia, protocollata il giorno dopo il sopralluogo, e cioè il 14 marzo, si evincono alcuni interessanti concetti e riscontri. In primis la macchia sulla parete di separazione in tufo delle due discariche, una delle denunce proprio dell'ex dipendente Daneko, per cui si legge nella relazione visivamente non vi sono evidenze di infiltrazioni di percolato, anche se saranno effettuate tutte le analisi del caso, a partire da campioni di parete sino ad arrivare alle acque sotterranee sottese alla discarica per i rifiuti solidi urbani, dai pozzi predisposti per il monitoraggio per verificarne proprio la qualità ambientale e l'eventuale presenza di inquinanti. Dai risultati della particolare sostanza che ha impregnato il tufo e dall'ispezione del pozzo in che si trova in corrispondenza della macchia stessa, sapremo se c'è uno sversamento di percolato e l'eventuale possibilità di intaccare la falda ciottostante. Nella relazione tuttavia si spiega anche che dall'ottobre 2017, momento in cui il Comune di Andria è subentrato alla Daneko per la gestione in sicurezza della discarica, in realtà è necessario ripristinare le attrezzature per il monitoraggio ambientale e si invita l'ente ad intervenire, considerato anche che serve rimettere a disposizione le apparecchiature ausiliari alla esecuzione dei campionamenti da parte dell'ente di controllo. I tecnici dell'ARPA hanno poi espresso preoccupazione per il riscontro, durante il sopralluogo nella parte opposta del sito, di un ruscellamento di percolato riscontrato nell'area adiacente al bacino della discarica di San Nicola la Guardia. Una preoccupazione nata perché si rileva un ampio lagunaggio di percolato che alimenta il ruscellamento e la dispersione di percolato dal pozzo spia, dove si riscontra un livello superiore a livello stradale di accesso alla discarica, intervento immediato dell'ente, come ci spiega l'assessore del giudice. Il 15 interviene una prima ditta specializzata per la ricostituzione delle barriere di contenimento del percolato e il 18, sempre su disposizione ufficiale, interverrà l'ulteriore azienda per l'emmungimento del percolato che si è sversato praticamente tra febbraio e marzo rispetto alle precipitazioni che ci sono state. Perché è evidente che l'amministrazione è stata sempre vigile, tant'è che dai formulari depositati ufficialmente anche all'ARPA stesso, l'emmungimento e i lavori di bonifica straordinaria sono continuati fino a gennaio 2019. Le piogge di febbraio e di inizio marzo hanno prodotto questo ruscellamento che è stato immediatamente e tempestivamente riscontrato e quindi si è cercato di intervenire, si è intervenuti il 15 marzo e il 18 per l'emmungimento finale.